3, 2, 1 Allora Lo controllo tutto Perché qua va a pancarazio chissà cosa ha combinato Allora Va bene, computer funziona Funziona Fammi vedere se c'è qualche perdita Qua no Che è che suona Ah l'è arrivata E' arrivato il signor Meyer Buongiorno, buongiorno signor Meyer Buongiorno Eccola qua Eh la stavo aspettando Allora Ha già tutto qui Sì, ci manca solo il carro per il trasporto della terra Che viene il mio collega più tardi Ah ok Che ha avuto un problemino con una gomma Ah ok Un po' il viaggio E poi era anche un po' vecchia questa gomma E quindi Eh, capita Allora Se vuole puoi già iniziare subito a scaricare Se ha bisogno anche una mano L'aiuto Come vuole Mi dica lei Se vuole una mano Non c'ho problemi Mi fa anche un piacere sinceramente Ok allora Allora do una mano Dai Ehm Apra pure qua Vediamo un po' Le chiavi dovrebbero essere già attorno Ok Sì sì Quelle qua su Allora qua si solleva Vieni vieni Posta Allora Il parcheggio qui Vai Il parcheggio qua Ok Venga Sì Occhio Occhio Porco cane Sta per scivolare Più a destra Più a destra Ah vabbè Ormai è già andato sul prossimo Eh ok Eh attenzione Venga Più a destra Più a destra 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 che sta andando addosso il bulldozer Sì arrivo arrivo Destra non sinistra Arrivo arrivo Destra non sinistra Un attimo Un attimo Eh sta andando addosso il bulldozer lo sa Lo so lo so È che ha qualche problema Che la voleva E l'ho notata solo adesso Mh Ah se non lo sa lei Che roba sua Eh lo so Adesso Adesso provvederò a dirlo al mio altro operaio di portarne giù un pezzo di ricambio Mh ok Ok Dai cambio qua sul posto Mh va bene Ok Allora Il cambio lo posso lasciare qui o lo devo spostare? Sì sì Magari lo mette un po' da parte Così se deve passare qualcuno Non dà fastidio Va bene non c'è problema Anzi se vuole Posso metterlo qua di fianco Perché ho visto che c'è Qua di fianco a questo capannone Sì qua di fianco sì Adesso non dobbiamo passare qui Quindi Può benissimo mettercelo Cioè tengo Libero più Libero possibile la strada ovviamente Sì 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 Va benissimo Ah qua abbiamo ancora Sto a fare da riportare a Pancrazio Devo ricordarmi dopo di portarglielo Allora Chissà dove è sparito il zio Ha detto che andava un attimo in casa a fare una cosa Non è più tornato È mezz'ora Intanto vado avanti qua Allora Qua il sollevatore è a posto Meglio Meglio controllare tutto Perché non si sa mai cosa ha combinato Pancrazio Qui Ah è a posto Mi sembra che è tutto a posto Dai Allora Devo andare a Falciare Il 31 Perché abbiamo quasi finito Le balle Allora Facciamo così Saliamo Ok Ah eccolo la zio Niente Scendo di nuovo Ma Zio Zio Senti è arrivato là Il tipo La Meyer Quello là Che deve fare i lavori Ah ok È arrivato un quarto d'ora fa Gli ho già detto che puoi iniziare Gli ho fatto parcheggiare il camion Qua dietro il silos Qua dietro E L'ho aiutato a scaricare un po' la sua roba Ha detto che più tardi dovrebbe arrivare il suo operaio col camion per la terra Quindi poi dovrebbe arrivare qualcun altro Allora Io qua ho dato una controllata al Fend Perché non si sa mai che Pancrazio abbia combinato qualcosa l'altro giorno Ehm Ora Vado a falciare il 31 Perché ho visto che abbiamo un po' poche balle di fieno Eh sì Ok Beh io vado Ehm Ma La casetta l'abbiamo Non c'è più niente dentro? Sì sì L'ho svuotata io prima Stamattina Oh ok Ok Ho messo tutto La po' di lì che può buttarla pure giù Sì sì Ok Ormai era anche un po' marcia quindi Ok Io ho messo tutto La Qua dentro Dove è? Qua dentro In officina La Quello che si poteva tenere l'ho messo qua dentro Ah sì sì Nell'ufficio diciamo Ehm Dai io vado Ok Sai bisogno che sono su delle vacche Ok Andiamo su Adesso ci devo andare anch'io a prendere la falciatrice quindi Là ci vado comunque Allora È lì Fermo Vabbè Io vado a lavorare comunque Oh Eccoci qua Chi è che Dio Senti un attimo CB Dio Sì dimmi Ehm Qualcuno qua mi sa che ha tagliato per il nostro campo d'erba Perché vedo tracce L'erba è tutta pestata Ma dove? Nel nostro campo d'erba Al 31 Ci sono delle tracce di ruote Stai scherzando? Eh qualcuno ha tagliato Intanto io parto a falciare Ok Poi al limite vengo a darci un chiato Beh tanto quando ho finito di falciare non si vede neanche più Non vorrei che sia un altro sabotaggio del nostro amico Augusto ma Eh quello che stavo pensando pure io Guarda qua Qua c'è Veramente c'è Ehm Hanno fatto avanti indietro qua Come per far manovra Eh allora qualcuno si è divertito O sarà uno di quei pirla là che girano Quei quod o quelle robe lì Magari Si sono divertiti a tagliare per campi Eh probabile Ok finito Oddio io sto tornando a casa ho finito qua Ok Eh guarda allora che sta lavorando Ah sto buttando giù la casetta Allora io la falciatrice devo portare su Che giro che ho fatto Ah è lì dentro Ok Allora qua la falciatrice Ah parcheggio così Ok Scendiamo Ok Attacca anche questo E via Ok Dove si è cacciato Boh Sarà andato giù La cosa sta combinando Quell'altro Allora io questo lo rimetto qua dentro C'è ancora l'erfice qua Ok Ok Oddio Sì dimmi Senti hai bisogno di una mano lì che io ho finito qua Guarda C'è una mano Ho appena dato da bere Adesso ho messo un po' di paglia E ho un po' pulito la stalla Credo che Possa anche bastare dai Allora Adesso puoi fare un salto Vieni su Ah si dai vengo su lì Vengo a vedere dai Vediamo Qua uova non ce ne sono C'è una corsetta Ah eccolo qua Eccomi qua Ah Eh senti Sì ho finito Senti mi è venuto in mente Che qua l'insilato Dobbiamo toglierlo Perché se dobbiamo fargli Togliere queste vasche E mettere quelle nuove Dobbiamo spostarlo Eh Dov'è che possiamo metterlo Eh Cavoli Bella domanda Allora Dobbiamo trovargli un posto Fare un mucchio Quanta roba ci sarà qua Eh ne abbiamo un po' Non lo so Ehm Fammi guardare qua dietro Non so Non penso ci stia qua dietro Eh O ci mettiamo una tettoia provvisoria Ehm Eh no Ma qui Come facciamo a farcelo stare qua Che troppo Ma cavolo lo mettiamo Eh non lo so Ehm Ma A limite Eh Dobbiamo provare a sentire Se in caso Prima fa questa Questa qui di destra Eh E a limite Non gli da fastidio E momentaneamente Una volta finita A limite Lo spostiamo Eh non so Però Quello da costruire È grossa Prende quasi tutto qua Guarda che è arrivato qua Meier Un attimo Eh sì Dica Buongiorno Salve Salve Ho riscontrato un problema Al mezzo E dovrei andare a prendere Un pezzo di ricambio Ehm Ok Vi andrebbe di andare a prendere Un caffè intanto Andiamo un attimo al bar A bere qualcosa Cosa Mh Volta che dici Andiamo Salve io ovviamente Ma si dai Ma tanto non abbiamo quasi finito da fare Quindi Eh io devo finire qui Ma insomma posso Ma si finire dopo Ma si Ma si Ma in caso vedremo qui Per risolvere il problema Per il cilato Va bene Andiamo Così magari ne parliamo anche con lui Eh sì Ok Ok Bella sta macchina Eh muova L'ho cambiata Eh È abbastanza bella Sì Negli ultimi giorni Perché mi avete visto Sicuramente Sempre se vi ricordate Sicuramente Non è perché Sì Eh ricordo La scorsa volta Che c'era la macchina rossa vecchia E ho dovuto cambiarla Eh sì Mi ricordo Allora Se mi ricordo bene la strada Dovrebbe essere giù per di qua Eh sì Giù in paese Va bene Va bene Dai facciamo più qua Va bene dai facciamo più qua Va bene dai facciamo più qua Sì Sì Sì